9 persone, tra loro anche una bambina di appena due settimane, sono gli occupanti dell'ex centro Dognocchi nella frazione Pozzolatico del comune di Impruneta che è stato sgombrato questa mattina da polizie e carabinieri dopo la decisione assunta dalla prefettura e dalla questura di Firenze. L'immobile, circa 10.000 metri quadrati al centro di una vasta tenuta, nel corso degli ultimi anni era stato occupato e vandalizzato grazie alla situazione di totale abbandono nella quale si trovava dopo il trasferimento alla regione all'Invimit, una società di gestione che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze. In precedenza la residenza di Campagna della famiglia Lardalel aveva ospitato l'istituto Dognocchi, poi circa 20 anni fa era diventato la sede della scuola steneriana che l'ha lasciata una decina di anni fa, poi più nulla, solo il degrado e l'abbandono. Lo sgombro di oggi dovrebbe servire a mettere in atto le condizioni perché la struttura si avvia verso un suo utilizzo. Nel 2018 si era parlato di utilizzarla come sede dell'Università Americana, progetto però sfumato. Oggi si parla di un pressante interessamento di investitori americani. Si parla di trasformarlo in un resort? C'è un interessamento da parte di investitori, questo è quello che ci risulta alla proprietà, però partiamo dal fatto che quello di stamattina era un atto dovuto verso la comunità. C'era un'attenzione, soprattutto anche una sensazione di insicurezza in tutta la frazione, non solo, e questo ci permette ovviamente di guardare avanti e appunto di immaginarci da adesso in poi un ragionamento con la nuova proprietà per una risoluzione che porta anche una ricaduta importante sul territorio dell'impruneta, in particolare al modo di questa frazione. Le persone, tutte originarie del corno d'Africa e della Tunisia che sono state trovate all'interno della struttura, sono state sottoposte a fermo per identificazione. Otto saranno denunciate per occupazione abusiva. La coppia con la neonata ha dichiarato di avere già preso accordi per essere ospitata da parenti. Alcuni degli occupanti non avevano con sé i documenti e per loro si dovrà accertare anche la posizione rispetto all'immigrazione.